Musica Coe Asrem, prossimo step, sesto campano, ancora nessuna richiesta da Venafro. Fissata al 9 febbraio l'autopsia sul corpo di Amalia Rago, la vittima dell'incendio di Vampato ieri, nella sua abitazione a Monte Cilfone. Interrogatori dal GIP per alcuni degli indagati a seguito dell'operazione antidroga che ha messo a suo quadro la piazza dello spaccio di Isernia. L'onorevole Piero De Luca in Molise per sostenere la candidatura alle primarie di Bonaccini con lui per ricostruire il PD. Durerà una settimana da oggi fino al 13 febbraio l'operazione di raccolta dei farmaci nel Molise, hanno aderito 15 farmacie. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TV in Molise, l'abbiamo visto nei titoli. Apriamo con l'inquinamento nella piana di Venafro partiti stamane i controlli dell'istituto zooprofilattico e Asrem su prodotti agricoli in un terreno in agro di Pozzili. Il prossimo monitoraggio a sesto campano, i tecnici al momento nessuna richiesta da Venafro. Scopriamo i dettagli insieme a Domenico Marzocchella. Da poco terminati i controlli su un terreno in agro di Pozzili, la questione è quella dell'eventuale inquinamento da metalli pesanti. Stamane, come peraltro annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Pozzili, Stefania Passarelli, il sopralluogo di tecnici Asrem dell'istituto zooprofilattico. L'intento è quello di verificare l'eventuale presenza di metalli pesanti nei terreni. La questione, lo ricordiamo, scoppiata a seguito del report della Procura della Repubblica di Sernia, da cui era immersa la presenza di cadmio e di altre sostanze potenzialmente tossiche in alcuni appezzamenti della piana di Venafro, ricadenti nei comuni di Venafro, Pozzili e Sesto Campano. A preoccupare, come rimarcato dal procuratore Capo Fucci, il fatto che parte delle aree individuate fossero coltivate. I controlli di stamane, un po' come già fatto autonomamente e a loro spese da alcuni imprenditori agricoli locali, non hanno riguardato direttamente il terreno, bensì prodotti agricoli. In proposito, subito dopo il sopralluogo, le dichiarazioni del dottor Antonio Pesaturo del Dipartimento Prevenzione Asrem. C'è stata una richiesta di approfondimento per vedere se su questi prodotti c'erano dei residui chimici di metalli pesanti. Ora siamo in attesa dei risultati, non possiamo dire niente. Il prelievo è stato fatto a campione, ne farete altri? Sì, è stato fatto a campione, speriamo che siano sufficienti, altrimenti se ci sono dei dubbi faremo altri campioni. La questione riguarda anche Venafro e Sesto Campano? Sì, sono in programma altri prelievi, sì. Anche in territorio di Venafro e Sesto Campano? Sì, Sesto Campano, Venafro ancora non abbiamo avuto segnalazioni in merito. Tecnicamente che cosa avete fatto? Abbiamo raccolto delle foglie di ortaggi che ora andranno analizzate. Quanto tempo ci vorrà per l'esito? Non lo so dire perché è un problema dell'istituto zoprofilattico che adempiera questi compiti. Da Pozzilli il prossimo step dei controlli congiunti istituto zoprofilattico e ASREM riguarderà dunque il territorio di Sesto Campano. Fin qui non risulta analoga richiesta da Venafro. È questione assai delicata in corso di valutazione, ci ha detto stamane il sindaco Alfredo Ricci che abbiamo intercettato nell'ambito di un appuntamento istituzionale tenutosi proprio a Venafro. Si terrà giovedì 9 febbraio l'autopsia sul corpo di Amalia Ragola, 71enne originaria di Montenero di Bisaccia che ha perso la vita tragicamente nell'incendio divampato ieri nella sua abitazione a Monte Cilfone. La procura di Ilarino insieme al PM Ilaria Toncini ha deciso di disporre l'esame autoptico per fugare ogni dubbio sul decesso della donna. Inizialmente si pensava che il rogo potesse essere scaturito da una stufetta a legna ma saranno le indagini da parte del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Termoli a chiarire da dove sia partito il rogo. Il marito ancora ricoverato in ospedale si è salvato miracolosamente ed è stato proprio lui a chiamare i soccorsi. La salma della 71enne è custodita presso l'obitorio dell'ospedale Santimoteo a Termoli. Le criticità del trasporto pubblico locale portate all'attenzione del Consiglio regionale in seduta monotematica su richiesta del Movimento 5 Stelle. Le posizioni politiche, sindacali e dell'ATM. Per noi c'era Francesco Adamo. Consiglio monotematico questa mattina per discutere sulla situazione di criticità del trasporto pubblico locale richiesta avanzata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle in Consiglio. La storia questa dei trasporti, come è facile ricordare, l'abbiamo anche qui, ne stiamo parlando da quattro anni, come sui problemi della sanità, identici. Sono quattro anni che noi insistiamo che bisogna riequilibrare i budget, che bisogna privilegiare la sanità pubblica. Lo stesso sui trasporti. Abbiamo sempre detto che l'attuale gestione dei trasporti, soprattutto su gomma, non è funzionale a quello che chiedono i nostri pendolari, i nostri giovani che vanno nelle scuole, a tutti i cittadini che si muovono sul nostro territorio. Dopodiché abbiamo perso anche qui quattro anni per fare che cosa? Per impostare un bando pubblico che darebbe tutta la gestione di questi trasporti su gomma a società che magari non sono più molisane. Allora, riflettendo su come la regione molise può migliorare il proprio sviluppo, noi proponiamo oggi di valutare se sia il caso di fare una società in house sui trasporti, che magari poi si potrebbe diventare l'interlocutrice anche, per esempio, con Trenitalia, in maniera tale da migliorare anche il discorso del trasporto ferroviario. Si registra anche la posizione di ATM per voce del suo titolare. Giuseppe Larivera ha scritto una lettera aperta indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, al Ministro dei Trasporti Salvini, al Presidente della Giunta regionale del Molise Toma e a tutti i consiglieri regionali. Nel testo parla dell'avvessazione da parte dell'interregione che si è acuita dopo la presentazione di un ricorso contro il bando di gara. Larivera parla dell'operazione di istruzione che l'interregione opera nei confronti delle aziende del trasporto pubblico locale e nel caso di specie nei confronti della società ATM, principale erogatore del servizio in questione. Larivera sottolinea che la Regione Molise sa bene che se ritardi ci sono, questi sono dovuti a reiterati tardivi in addempimenti dell'assessorato ai trasporti, come più volte stabilito dal giudice civile, con sentenze passate in giudicato. La Corte dei Conti parla di un debito per mancate quote di contribuzione non inferiore ad euro 6 milioni per ATM. Tutto questo incide inevitabilmente sulla capacità dell'azienda di regolarizzare le posizioni con i lavoratori. E la voce dei lavoratori viene espressa da Pasquale Giglio, sindacato Faisa Cisal. Diciamo che la questione verteva soprattutto sul mancato pagamento in ritardo della retribuzione da parte dell'associale ATM e del bando di gara. Su questa cosa noi abbiamo detto alla Regione che chiaramente è ingiustificata la richiesta del ritardato pagamento dello stipendio da parte dell'ATM perché è vero che lui reclama il costo delle accise che gli è stato detratto da un famoso studio che doveva stabilire quanto costasse il trasporto pubblico locale in Molise. Ma è anche vero che in quello studio lui prende altre risorse tipo il contratto di secondo livello per importo di circa 10.000 euro anni per dipendente dal 2011 gli è stato aumentato anche il risultato finale del costo dello studio con l'ammortamento del costo degli autobus e non c'è mai stato un autobus nuovo l'utile di bilancio garantito, il ristorno addirittura delle imposte pagate l'indicizzazione indice ISTAT di settore, cosa che non c'è e la legge prevede, tutt'altro prevede solo l'indice di infrazione programmata cosa che è stato previsto in questo bando di gara. Per quanto riguarda l'intervento sostitutivo da parte della Regione la Regione ha affermato che non tornava indietro assolutamente in questo intervento sostitutivo. E passiamo ora alla vicenda divenuta nei giorni scorsi un caso mediatico relativa al commerciante minacciato con il taser non c'è stata alcuna violenza da parte degli operatori di polizia non c'è stato alcun utilizzo del taser non c'è stato alcun abuso all'interno del commissariato di Vasto un normale intervento a supporto di una donna richiedente aiuto è degenerato e si è trasformato in un processo mediatico ingiustificato è quanto affermato dal segretario generale provinciale del SIAP Giuseppe Delia in merito a quanto accaduto qualche giorno fa a Vasto. E rimaniamo ancora sulla cronaca ci sono novità in merito all'operazione antidroga effettuata la settimana scorsa dalla Procura della Repubblica di Isernia insieme alla Questura e alla Squadra Mobile interrogatori dal GIP per alcuni degli indagati. Vediamo. interrogatori di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Michele Caroppoli questa mattina presso il Tribunale di Isernia per alcuni degli indagati nell'operazione messa a segno dalla Procura di Isernia insieme alla Questura e la Squadra Mobile Pentra per spaccio di droga tra il Lazio ed il Molise. Nei giorni scorsi sono state emesse otto ordinanze cautelari a vario titolo nei confronti di otto persone che la Procura Pentra ritiene essere i responsabili dell'attività di spaccio ovvero una custodia cautelare in carcere cinque arresti domiciliari e due misure di obbligo di dimora presso il comune di residenza sabato presso il penitenziario romano di Regina Celi si è svolta l'udienza GIP dell'Isernino che gli inquirenti pensano sia il fornitore degli stupefacenti un'attività di smercio di droga portata avanti tra la capitale e la provincia Pentra con un giro di assuntori accertati di circa 60 persone, tutti giovani. Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere già che le fonti di prova erano già chiare e ritengo sommessamente che ci sia una totale estraneità ai fatti contestabili al mio assistito. Posizioni soprattutto quelle minori che secondo l'avvocato Scafati vanno rideterminate e riequilibrate così come va nuovamente valutata la necessarietà delle misure precedentemente disposte ciò dal momento che le indagini sono concluse già da tempo e di fatti sono risalenti a circa due anni fa. Nei giorni scorsi sono state emesse una serie di misure custodiali a vario titolo sappiamo che ci sono delle posizioni un po' più determinanti un po' di spicco quindi rispetto invece a posizioni minori si tratta in questa fase siamo sempre quindi nella fase delle indagini preliminari sono misure custodiali vanno sicuramente rideterminate vanno rimodulate e riformulate a seconda di quella che è l'intensità della partecipazione e anche quelle che sono le prove emerse nell'ambito del procedimento. Abbiamo una serie di sommarie informazioni che sono andate a corollario di una serie di intercettazioni durate per diverso tempo che hanno avuto quindi una interpretazione ma che dobbiamo comunque andare a classificare quindi nel tempo sono fatti che sono risalenti a circa due anni fa e quindi merita sol questo già sol questo una valutazione sulla necessarietà quindi di alcune misure custodiali ripeto quindi di figure quindi minori. Ci sarà anche il sindaco di Campobasso Roberto Gravina a Torino il prossimo 13 febbraio in rappresentanza dell'amministrazione comunale del capoluogo di regione per partecipare al primo road show di Invitalia e del Mimit sul tema 5G e industria creativa ospitato dalla Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino. Passiamo ora alla politica l'onorevole Piero De Luca in Molise per sostenere la candidatura alle primarie di Bonaccini con lui per ricostruire il PD. Ce ne parla Domenico Marzocchella. Verso le primarie del Partito Democratico ormai è chiaro il PD regionale qui in Molise sta con Stefano Bonaccini a riprova il tour le diverse visite che si stanno susseguendo in questi giorni dei big del partito qui in regione per sostenere la candidatura del governatore della regione Emilia Romagna l'ultimo in ordine di tempo Piero De Luca Piero De Luca è il capogruppo PD alla Camera noi lo abbiamo ascoltato. Onorevole Piero De Luca perché con Bonaccini? Con Stefano Bonaccini perché è la figura più autorevole esperta che viene da una storia di militanza di amministrazione locale è in grado davvero di ridare nuovo slancio nuovo ossigeno e ricostruire il Partito Democratico puntando su una nuova classe dirigente che dia voce e spazio alla militanza al rapporto con i territori all'amministrazione locale a chi ogni giorno lavora accanto ai nostri cittadini. A proposito dello stato di salute del Partito Democratico dal governo Conte Bis fino al governo di unità nazionale con Draghi ma anche prima il PD di fatto è stato un partito governista non è una brutta parola i detrattori si chiedono ma il Partito Democratico è ancora un partito concretamente di sinistra? Io sono convinto che attraverso battaglie serie che sono quelle accanto alle esigenze reali dei nostri cittadini dei lavoratori delle famiglie delle imprese noi potremmo rilanciarne anche il profilo progressista e riformista e tornare ad essere forza di governo ottenendo il consenso dei nostri cittadini nelle prossime elezioni. Intanto qui tra qualche mese si vota per le regionali il Partito Democratico farà un accordo con il Movimento 5 Stelle 5 Stelle che a livello nazionale sono di fatto degli importanti e agguerriti competitor. Noi abbiamo il dovere qui come poi in altre realtà soprattutto in occasione delle elezioni regionali di creare un quadro di coalizione ampio ma anche serio credibile che possa mettere in campo le proposte di governo del territorio qui in Molise nei prossimi anni su una base di una condivisione programmatica di alcuni progetti e programmi di sviluppo del territorio. Il Partito Democratico ha il dovere di essere protagonista di questo percorso sarebbe sbagliato immaginare di andare soli. Ovviamente le condizioni vanno costruite con fatica con tutti mettendo in campo tutti i percorsi e i processi necessari l'obiettivo però è offrire un'alternativa seria credibile al governo a un governo di destra di centrodestra che non ha prodotto risultati straordinari o eccellenti in questi anni qui in Molise per cui io sono convinto che il Partito Democratico saprà trovare la proposta e la risposta giusta anche in un quadro di alleanze che rendano competitiva la nostra proposta rispetto al governo della regione. Nadia Iannotta è la nuova segretaria regionale della provincia di Isernia lo ha deciso con il proprio decreto il presidente dell'ente Alfredo Ricci alla segretaria generale è stato inoltre conferito l'incarico di direzione ad interim dei settori affari generali finanziario e tecnico e ambiente fino a diverso provvedimento. Saranno gli istituti scolastici a dire l'ultima parola ma la giunta di Isernia ha proposto per il prossimo anno 2023-2024 di adottare la settimana corta e i dettagli con il sindaco Piero Castrataro. A lezione solo dal lunedì al venerdì il sabato a casa da trascorrere insieme alla famiglia e ai propri cari è la proposta che la giunta comunale di Isernia ha pensato per gli studenti pentri e che è stata posta all'attenzione degli istituti comprensivi del capoluogo ovvero San Giovanni Bosco e Giovanni XXIII fermo restando il monteore settimanale che rimane invariato l'idea della settimana corta per l'anno 2023-2024 nasce dalla volontà di ottimizzare il rapporto tra l'ambito educativo e quello familiare favorendo un incremento delle relazioni i genitori e figli ad illustrare la proposta che sarà ora al vaglio delle scuole il sindaco Piero Castrataro ma ieri abbiamo fatto questa delibera di giunta in cui proponiamo ai due istituti comprensivi di valutare di fare la settimana corta come ormai diventa consuetudine soprattutto nel resto d'Italia e anche nel resto d'Europa la possibilità quindi di passare più tempo con i propri figli il sabato tra l'altro i benefici di un'impostazione di questo tipo riguarderebbero anche l'ambito economico chiaramente questo potrebbe avere un impatto positivo anche sul risparmio energetico quindi speriamo ecco che i due consigli di istituto valutino la proposta e la facciano propria il comune inoltre ha pensato anche alle famiglie i cui genitori sono impegnati per l'intera durata della settimana prevedendo attività dedicate agli studenti contestualmente ci stiamo preoccupando del fatto che alcuni effettivamente avranno un piccolo disagio se si andasse in questa direzione e quindi il comune organizzerà nelle mattine del sabato alcune attività extrascolastiche che può essere il teatro possono essere laboratori artigianali e così via il disegno di legge Calderoli per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni spacca il paese ed è un attacco all'esercizio dei diritti fondamentali a partire da quello dell'istruzione la Fielc CGL afferma da anni che la scuola va tenuta fuori dall'autonomia venerdì 10 febbraio presso la sede della CGL Molise a Campobasso è convocata una conferenza stampa per illustrare le iniziative di mobilitazione concordate insieme alle RSU di tutte le scuole del Molise durerà una settimana dal 7 al 13 febbraio l'operazione di raccolta dei farmaci nel Molise hanno aderito all'iniziativa 15 farmacie i farmaci da banco raccolti in Italia saranno consegnati a 1800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400 mila persone il servizio è di Francesco Adamo parte oggi la giornata di raccolta del farmaco una iniziativa che vede partecipare 15 farmacie nella regione sì sì in effetti parte oggi dal 7 al 13 febbraio una settimana dove tutti noi volontari saremo presenti in queste farmacie che hanno dato la disponibilità a raccogliere farmaci acquistati dalle persone e poi donati nei nostri punti nella scatola dove poi vengono raccolti farmaci ovviamente sono tutti farmaci da banco che servono a noi come associazioni o nel caso nostro specifico che accompagniamo persone disabili anziane malate e pellegrinaggi per sopperire alle eventuali emergenze durante i pellegrinaggi oppure alle associazioni caritatevole le caritas eccetera che le donano alle persone in difficoltà che non possono acquistarli e le farmacie che partecipano danno già loro un contributo sì loro per aderire all'iniziativa devono versare un contributo due mesi prima dell'inizio della settimana e poi ovviamente hanno tutto l'onere di raccogliere catalogare elencare perché noi poi alla fine dell'iniziativa firmeremo un elenco dei farmaci che sono stati donati dalle persone infatti è una situazione molto controllata e i numeri dell'anno scorso sono stati importanti e ci si aspetta anche quest'anno un buon risultato sì sì devo dire che l'anno scorso diciamo alla fine dell'epidemia abbiamo avuto già un buon risultato e ovviamente confidiamo in questa nuova raccolta considerando che le persone comunque sono sempre generose quanto si tratta ovviamente di aiutare altre persone in difficoltà sono sempre disponibili e l'Unitalsi assume un ruolo molto importante il volontariato è molto sentito ed è operativo nella nostra regione noi ovviamente il nostro specifico è quello di stare a contatto con le persone in difficoltà cioè già la nostra sigla Unitalsi Unione Nazionale Italiana trasporta ammalati all'urde e santuari quindi la nostra carisma principale è quello di organizzare pellegrinaggi con persone disabili anziane e malate ma ovviamente non si ferma solo nella settimana del pellegrinaggio ma durante tutto l'anno con visite uscite incontri perciò lo ricordiamo dal 7 di febbraio fino al 13 febbraio ognuno può donare queste farmacie un contributo per l'acquisto di questi medicinali sì dal 7 al 13 ripeto potete recarvi in queste farmacie convenzionate in Caonbast ce ne sono 4 ma in tutto il Molise e acquistare un farmaco e fare un gesto di solidarietà grazie il professor Maurizio Santilli docente dell'istituto alberghiero Federico di Svevia di Termoli chef di livello internazionale nonché vicepresidente della federazione internazionale gelateria pasticceria e cioccolateria è stato per il quinto anno consecutivo riconfermato nell'investitura di ambasciatore del busto DOC Italy presso il Campidoglio di Roma ieri il riconoscimento per l'amor patrio la passione e l'impegno con cui svolge il proprio lavoro di diffondere il gusto del territorio con la missione di diffondere il Molise all'estero per me affermato con gioia Maurizio Santilli è una grande emozione ricevere questo riconoscimento e questa era l'ultima notizia di oggi adesso andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino previsioni per oggi 7 febbraio l'irruzione di area gelida proveniente dall'est Europa e responsabile del crollo termico di queste ore non ha portato precipitazioni particolarmente intense sulla nostra regione complice sicuramente la direzione della Saccatura maggiormente orientata verso la Grecia e la Turchia per oggi il tempo si presenterà quindi per lo più soleggiato salvo locale addensamenti più consistenti dal pomeriggio sul Campobassano venti dai quadranti settentrionali mare molto mosso temperature Campobasso minima meno 3 massima 2 Isernia minima meno 4 massima 5 Termoli minima 4 massima 6 Venafro minima meno 4 massima 7 previsioni per domani 8 febbraio per domani il tempo si prevede impeggioramento sui settori orientali dove saranno possibili deboli precipitazioni nevose fino a quote molto basse e localmente in pianura migliore la situazione sui settori occidentali con ampi spazi solleggiati ma clima molto freddo venti dai quadranti nord orientali mare mosso temperature Campobasso minima meno 2 massima 2 Isernia minima meno 2 massima 4 Termoli minima 5 massima 7 Venafro minima meno 4 massima 7 e con il meteo si chiude l'edizione delle 14 del nostro telegiornale vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento Grazie a tutti